Bene, ed essendo che in questa votazione su Instagram ha vinto di nuovo la costruzione in video Ecco voi qua il puzzle della Marvel Ed ha ben mille pezzi, eh? Ok? Quindi non so, penso che ci piegherò sì o no 3 o 4 ore Adesso vediamo Vabbè, dai, cominciamo Grazie a tutti 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 Oh, forse basta puzzle Sì, devo dedicarmi ad altro Devo recuperare molti fumetti che si sono raccomulati qui in 3 settimane Ciao ragazzi, al prossimo episodio